Ciao a tutti, mi presento, sono il dottor Cusenza Salvatore, specialista in scienza dell'alimentazione e da oggi sono felice di annunciare questa collaborazione con Padre Pio TV, dove si parlerà di tutti i tipi di alimentazione e soprattutto delle novità in campo alimentare. Oggi vorrei affrontare l'argomento abbastanza dibattuto in questi anni, la dieta chetogenica, che in realtà non è nata negli ultimi 10-15 anni, ma è nata nel 1920 perché un dottore, il cui figlio soffriva di crisi epilettiche, aveva notato che riducendo i carboidrati, il figlio stava sempre meglio. Questo ragazzo era un ragazzo che soffriva di crisi epilettiche, ma a cui i farmaci non funzionavano. E il padre, sperimentando la riduzione dei carboidrati, notò che andava sempre meglio, fino al che a un certo punto le crisi erano totalmente scomparse. Quindi non nasce adesso come terapia alimentare, ma nel 1920, esattamente 103 anni fa. Attualmente i campi di applicazione della dieta chetogenica non sono solo crisi epilettiche ed emicranie, ma ormai si parla anche nel campo delle fibromialgie, delle patologie autoimmune, della psoriasi, in alcuni casi di diabete, ma soprattutto viene utilizzata negli ultimi 10 anni per la perdita di tessuto adiposo. Perché questo? Perché succede una cosa molto semplice nella dieta chetogenica. È una dieta con pochissimi carboidrati, dai 15, 20, 30 grammi di carboidrati al giorno, un aumento dei grassi buoni e un apporto di proteine normoproteici leggermente spostate un po' più in alto. Quindi parliamo di circa 1,4-1,5 grammi di proteine per chilo corporeo di peso ideale. Quindi capite bene che un approccio alimentare di questo tipo non fa altro che spostare il funzionamento del corpo da zuccheri a corpi chetonici, da cui deriva il nome della dieta. I corpi chetonici sono tre, il betidrossibutirratio, l'aceto acetato e l'acetone. L'acetone è volatile e viene eliminato col respiro, da qui quella sensazione di alito pesante. Le altre due sostanze sono le uniche due che oltre allo zucco riescono ad arrivare al cervello e quindi dare benessere. Quindi a parte i primi 3-4 giorni di un'inizio di dieta chetogenica, in cui si può avere stanchezza, malditezza, dei sintomi chiamati chetoflu, tipo l'influenza, poi si va in chetosi e il corpo inizia a utilizzare questi corpi chetonici come fonte di energia. Si è osservato in alcuni casi anche euforia, si parla di cervello chetogenico, quindi un cervello più sveglio, la persona dorme meglio, si sveglia meglio. Quindi abbiamo tanti benefici da questo tipo di alimentazione. logicamente, quello che dico io sempre al paziente, la dieta chetogenica non è eliminare tutti i carboidrati e tutti i grassi e mangiare solo proteine e verdure, no. Quello è un altro tipo di dieta che non so neanche come definirla. La dieta chetogenica ha una particolarità che ha in cui si ha l'aumento dei grassi buoni, tra cui degli oli a 8 atomicarboni che subito vanno ad essere trasformati in energia e non si accumula il tessuto di poso. Quindi, cosa sta succedendo negli ultimi 10 anni? Ve lo spiego in due minuti. Se il paziente ha bisogno di perdere tanto peso, tanto grasso, è consigliabile partire prima con un approccio alimentare con un po' di carboidrati e poi passare eventualmente a una dieta chetogenica. Non partire subito da una dieta chetogenica, perché è come se si inizia una guerra e si usano subito le armi atomiche. Quindi è proprio un approccio, secondo me, esagerato partire subito con una dieta chetogenica. Mentre, siccome la dieta chetogenica ha un effetto, ha un bel effetto sull'ovaio policistico, sulle adioposità localizzate, potrebbe essere iniziata come armi in più dopo due o tre mesi trattamenti con una dieta mediterranea o similmediterranea. Quindi, oltre ad essere utilizzata in patologie, come dicevo prima, emicranie, crisi epilettiche, fibromialgia, ovaio policistico, diabete, psoriasi, ha anche un approccio molto efficace nella perdita di tessuto di poso, anche nella perdita di tessuto localizzato nella donna, soprattutto nell'addome e nella parte peritrocanterica, proprio perché questo tipo di alimentazione sposta e aumenta una proteina circolante, l'SHBG, che andando a bloccare estrogeni e progesterone, ne riduce l'effetto nella donna in pre-menopausa e in menopausa, ma anche in chi non è in questa fase, riducendo quell'accumulo di tessuto di poso sull'addome e nella parte peritrocanterica. Quindi è un armi in più che, se usata bene, può avere ottimi effetti sulla perdita di tessuto adiposo. Logicamente, quello che io dico sempre alle persone, fatevi seguire da chi è preparato nel settore e non dal primo arrivato che vi dà delle bustine o vi dici di eliminare tutti i carboidrati e pensando con ciò di fare una dieta chitogenica. Con questo ho finito e vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao a tutti! Grazie a tutti!